è sempre quel gruppo là allora io purtroppo poi sono cresciuto sono stato l'idolo delle ragazzine per molti anni ma poi come si dice il mondo va avanti gli idoli crescono e cambiano e adesso c'è un nuovo idolo delle ragazzine di tutto il mondo io vorrei fare adesso un collegamento esterno è un ragazzo di New York veramente un ragazzino che ha venduto un milione di copie con l'album di esordio esploso come attore di Serial TV vedi che l'ho imparato l'inglese un Serial TV che si chiamava Summerland a me quest'anno vuole tutte le cose senti che già ci sono vedi 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 ecco no ma poi anche delle persone di una certa età ecco ecco abbiamo il collegamento sta arrivando in questo momento probabilmente le persone là dietro non sanno che dentro quell'automobile così blindata c'è una star di prima grandezza nel mondo della musica dobbiamo andare avanti vediamo lo voglio vedere con voi voglio vederlo con voi fate aprire la porti vorrei vivere con voi questa emozione di salutare Jesse McCartney grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti hello good evening nice to meet you I'm very well how are you I'm fantastic how you guys feeling tonight sto benissimo come state voi sto benissimo benissimo come state voi Ciao, è un famosissimo attore e anche cantante, tutti gli rivolgono questa domanda, preferisci cantare o recitare, preferisci cantare o cantare? È una domanda difficile a cui rispondere, ho cominciato con il teatro musicale a Broadway e dopo un po' mi piaceva il teatro ma volevo provare qualcosa altro e quindi ho sviluppato la mia carriera di attore con Barbara e poi sono stato con una boy band negli Stati Uniti per un po' e poi alla fine ho fatto il mio primo disco da solista a 15 anni e poi ho cominciato a girare il mondo e mi sono divertito un sacco. Ho 18 anni, un milione di copi, mi veramente chiederei un applauso, grazie, grazie mille. Grazie a voi. Grazie, grazie mille a tutti, ciao. Jess McCartney! Wow! Freddo! Fa freddissimo qui! Io quasi quasi vado via con Jess. Can I come? Yeah, let's go! Ok, let's go! Tanto io ho finito. Ciao, io vado allora, eh. No, non posso. Mi stanno ridendo. Mi stanno richiamando. Ok, Jess. I'll see you later. I can't. Ok, scusate, non posso. Va bene. Ciao! No, no. No! No. No, no, no. I'll see you laterale. No! No! No, no! No, no! No, no, no! No, no, no. No! No, no, no... No, 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 no! No, no, no!